Attenzione, questo video potrebbe farvi risparmiare sulla bolletta elettrica. Le RTX 3000 sono delle schede video portentose, sono delle schede video che hanno, credo, il miglior rapporto, stavo per dire qualità-prezzo, se fossero ovviamente al prezzo MSRP, per tutto il pacchetto che offrono, attenzione non solo per i videogiochi, per quell'ambito dove dovete andare sulle schede video AMD, ma hanno un enorme problema, secondo me, e cioè il consumo di corrente elettrica. Perché è vero che le performance sono aumentate dalla serie 2000, ma sono aumentati anche i consumi. Per farvi capire, la 2080 Ti, che era la top di gamma della generazione precedente, arriva a consumare tra i 250 e i 280 W di potenza quando veniva spinta al massimo. La 3080, invece, arriva a consumare facilmente anche 360 W di corrente. Da 3090, invece, con i suoi modelli custom, quindi con PCB custom, fasi di alimentazione custom, arriva a consumare anche oltre 400 W. E non è proprio una cosa bella da vedere. Ma se vi dicessi che, abbassando il consumo di corrente del 20%, voi non avreste nessun calo di prestazioni grafiche con la vostra scheda video, mi prendereste per pazzo, giusto? Beh, prima di prendermi per pazzo, diamo un'occhiata allo sponsor di oggi, e cioè pcgaming.it, il sito dal quale dovreste attingere se avete bisogno di notizie riguardanti il mondo del tech e il mondo del gaming. Sempre pronti con l'ultimo trend, con un sito bello da vedere, facile da navigare, scorrevole da leggere, è un portale che io vi consiglio senza il minimo dubbio, per cui tutti i link sono in descrizione. Andate a dare un'occhiata. Qualche giorno fa mi sono imbattuto nel video di Marco, di MV Hardware. Oltre a notare la sua beltà, oltre a vedere che è proprio un bell'uomo, Marco chiamami, lui esponeva un paio di problematiche per quanto riguarda la serie 3000 di Nvidia, cosa che io appoggio con tutto me stesso. È vero, secondo me sono delle schede video che sono uscite decisamente in anticipo rispetto alla tabella di marcia, e rispetto a quello che potevano offrire, offrono dal punto di vista delle prestazioni un giusto quantitativo di prestazioni. Ma da un punto di vista dell'ottimizzazione energetica non è che siano state così rifinite. Questo perché AMD quest'anno ha tirato fuori delle schede video ottime, quindi Nvidia ha dovuto accelerare un pochettino i tempi di rilascio delle schede video. Ad ogni modo, vi lascio in descrizione il video di Marco, che dovreste andare a vedere perché è un test molto 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 interessante. Se volete che io e Marco facciamo un video assieme, o comunque facciamo qualche contenuto particolare insieme, lasciate un messaggio sotto il mio video e sotto il video di Marco. Hashtag MG Hardware. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Marco stava testando una RTX 3080 Ti in versione Asus Strix, una scheda video decisamente potente, decisamente energivora, e sosteneva che abbassando il TGP, quindi il consumo della scheda video, si potessero avere le stesse prestazioni che la scheda video ha a stock, se no qualcosina di più. A quel punto mi sono detto, sì, la scheda video che Marco ha è una 3080 Ti, Asus Strix uno dei migliori modelli che voi potete trovare sul mercato, e soprattutto ha tre connettori da 8 pin PCI Express per quanto riguarda l'alimentazione. Questo esperimento è fattibile sulla mia 3080 Vision OC di Gigabyte, che ha solo due connettori PCI Express per quanto riguarda l'alimentazione, quindi che cosa ho fatto? In live sul mio canale Viola, che vi consiglio di andare a vedere, sta è tutto in descrizione perché questo esperimento l'abbiamo fatto lì, ho deciso di fare dei benchmark e vedere un pochettino i risultati. Andiamo step by step. Con tutto a stock, il punteggio della mia 3080, punteggio rotale, era 16183, il punteggio grafico 17404, con una temperatura massima di 65 gradi e un consumo di 360 Watt. Al massimo quella scheda è arrivata a 360 Watt a stock, ma ciò non significa che la scheda video ha dato tutte le prestazioni di cui era capace. Attenzione, perché ricordo, la GPU era stock, quindi che cosa ho deciso di fare? Come ho fatto Marco nel suo video, ho applicato un piccolo overclock alla GPU e alle memorie. Facendo un pochettino la quadra di tutta la situazione, sono arrivato a 140 MHz sulla GPU di clock in più e 200 MHz sulle memorie. Sebbene queste siano GTDR6X di ottima fattura, non volevo andare a stressare troppo le memorie perché non sto facendo delle prove di tuning perfetto. Voglio semplicemente verificare che le informazioni trovate nel video fossero vere. E ragazzi, porca miseria, vi dico che con un overclock di 140 MHz sul core e di 200 MHz sulle memorie, la scheda video ha superato il punteggio totale di circa 700 punti. Infatti siamo a 16.810 punti e il punteggio grafico è salito di circa 1.000 punti. No, 800 a dire il vero, 18.213 con le stesse temperature, 65 gradi di picco e 360 W di consumo. A quel punto che cosa ho fatto? Ho abbassato mano mano la percentuale di corrente in entrata, quindi il TGP senza andare a toccare la tensione o i volt, non ho assolutamente toccato quell'impostazione, ho semplicemente diminuito la quantità di W che la vostra scheda video può succhiare dal vostro alimentatore. E i risultati sono stati fantastici. Vi dico soltanto che abbassando del 5% ogni volta il TGP il consumo di corrente ovviamente diminuiva, il punteggio diminuiva certo, ma non era una diminuzione così grande da farmi preoccupare per quanto riguarda le prestazioni, fino a che non sono arrivato al 20% in meno di TGP con un punteggio totale di 16.434 e un punteggio grafico di 17.434. La scheda video ha cappato la sua temperatura a 63 gradi, quindi vabbè non abbiamo perso così tanti gradi, ma attenzione il consumo energetico è passato da 360 W a 297. Abbiamo risparmiato 63 W con le prestazioni che avevamo a stock. Per farvi capire, la scheda video appena la tiro fuori dalla scatola e la metto nel PC consuma 360 W con un punteggio. Io facendo un overclock sulla GPU e abbassando la potenza in entrata del 20% ho raggiunto una percentuale più alta delle prestazioni a stock, ma con il 20% in meno di corrente risparmiando 60 W, un quinto della potenza totale, più o meno. Stiamo parlando più o meno nell'ordine di un quinto. Che cosa significa questo? Uno, che è una cosa che noi sappiamo benissimo, e cioè che i componenti elettronici hanno, diciamo, una certa soglia di gioco, nel senso, se la mia componente riesce a dare, esempio, 100 punti con tot numero di W in entrata, è possibile che dia lo stesso quantitativo di punti con magari un po' di corrente in meno in entrata. Allora vi chiederete, G, perché allora hai fatto l'overclock sulla scheda video? Allora, l'overclock è un procedimento che ho fatto via software tramite MSI Afterburner, e il software praticamente stava dicendo alla vostra scheda video guarda, devi aumentare la velocità del core di 140 MHz. 140 MHz, come ho detto, è il limite stabile sul quale sono uscito per cloccare la mia RTX 3080, perché le RTX 3000 sono abbastanza difficili da overclockare, non vi potete aspettare gram di performance come la serie 900, come la serie 1000, perché sono già dei chip spremuti all'osso. Questo ci fa capire che sono dei chip che sono potenti, sicuramente, ma non sono stati ottimizzati come volevamo che fossero ottimizzati, ma perché, come ho detto, Nvidia ha voluto accelerare il processo di rilascio con situazioni catastrofiche, purtroppo, che non dipendono ovviamente da Nvidia stessa, e quindi sono delle schede che hanno un grande consumo energetico, e quindi sono delle schede che, con un grande consumo, ah no, diciamo quel grande consumo energetico, per stare sicure, tra virgolette, cioè nel senso, se a un certo punto c'è una scena estremamente pesante di grafica, magari perché avete attaccato il ray tracing, avete tutte le impostazioni al massimo, la scheda deve essere in grado di succhiare più corrente, ma non è detto che vi dia più performance, perché si raggiunge poi il limite del chip, ecco, l'overclock raggiunge un tetto massimo, non perché si raggiunge un cap di corrente, ma perché si raggiunge proprio il limite del chip, dovuto ai condensatori, comunque, alla qualità del silicio, sappiamo benissimo quali sono questi problemi. Quindi, nulla, questo era un esperimento estremamente interessante che volevo fare, e che vorrei provaste anche voi, avete una scheda, magari con un RTX 2000, un RTX 1000, se avete una scheda di questo tipo, io vi ricordo di andare a vedere il video di Marco di MB Hardware in descrizione, raga, ricordate hashtag MG Hardware, e vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, e ci vediamo un prossimo video, fatemi sapere la vostra, anche se so che probabilmente la vostra opinione non è proprio delle migliori, per quanto riguarda le RTX 3000, ma va bene, purtroppo it is what it is, come si dice in inglese, e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, con qualche altro esperimento decisamente pacserello, ciao ciao, bezi a tutti.